E se io volessi inventare una cornice che pur con tutta questa varietà qui non c'è, perché c'è veramente tanto, però ad esempio io sfogliando questo elenco non ho trovato l'immagine della zampa di un gatto. Allora proviamo a vedere come posso fare per inventare io una forma. Allora aggiungo una pagina, vado su elementi e nella casella di ricerca scrivo Ecco qua, e scelgo questa. Quindi io ho scelto una forma presa dalla colonna degli elementi. Cosa devo fare adesso? Condividi, scarica, lo scarico come pdf. Attenzione, in questo caso io non voglio scaricare tutte le pagine, ricordati che qui c'è la spunta, io voglio scaricare soltanto questa. E scarico la mia impronta di gatto. Poi cosa faccio? Apro Word, gli dico apri e vado a prendere il file che ho appena scaricato. Eccolo qua, in pdf. E gli dico apri. Ecco qui. Seleziono e vado a formato forma. Riempimento forma. Clicco qui di fianco, scendo nel menu e gli dico di riempirlo con un'immagine. L'immagine posso prenderla assolutamente a caso, perché tanto poi andrà cancellata. Ci serve solo per creare la forma. Clicco questo, che è un'immagine che avevo già, ok, di un dipinto. Non importa quello che hai messo dentro, perché poi andrà cancellato. Dopodiché gli dico, ok, perfetto. Adesso me lo salvi, non come documento di Word, ma come pdf. E poi gli dico esporta. Torno al mio progetto. Apro una pagina nuova. Vado in caricamenti. E gli dico carica il file. Questo qua, che abbiamo appena messo. Vedi che lui sta caricando il pdf. Eccolo qua. Io clicco e ho sulla mia pagina, sulla pagina del mio progetto, l'impronta. Cosa devo fare adesso? Semplice. Clicco i vari elementi e con il tasto Canch del computer, cancello lo sfondo che avevo messo. Vedi quello che è successo. Io ho creato una cornice. E da cosa lo capisco? Lo capisco perché al posto dell'immagine che avevo messo, ho questo disegno di paesaggio, che significa che posso inserire quello che voglio. E io adesso ti faccio vedere che inserisco quello che voglio. Vado su elementi, vado su foto e inserisco delle foto. Una, due, tre. Mi basta trascinarle all'interno della forma. Poi di che clicco due volte sull'immagine e se ne ho bisogno la sposto magari un pochino e la sistemo. Applichiamo uno sfondo ed ecco fatto. Naturalmente io poi qua posso, visto che questi sono degli elementi separati, ma io voglio che mi diano l'idea dell'impronta del gatto. non faccio altro che se ho bisogno di allargarli, selezionarli tutti, prendere le mie manigliette che ci sono negli angoli e poi posizionare al centro la mia impronta in modo da non dover cambiare la posizione dei singoli elementi o variarne le dimensioni. Ovvio che poi, come al solito, io qua posso aggiungere uno scritto, lo posso mettere dove voglio. Ecco qua. Posso anche aggiungere una cornice di quelle che ho visto prima, di quelle grafiche. La capovolgo orizzontalmente. Quindi, questo per dirti che io posso anche inventare delle forme, delle cornici che all'interno di Canva non ci sono e questo è un modo. Oppure posso fare il contrario, cioè posso creare una maschera. per creare la maschera però, devo utilizzare un'altra applicazione da abbinare a Canva. È un'applicazione però online, gratuita, per cui non ci sono problemi, non devi registrarti né niente. Come si fa? Allora, si prende una pagina nuova e devi scrivere Pixlr online. Ti si apre questa schermata e qui noi andremo a caricare l'immagine e andiamo a prendere però questa volta questa immagine. Allora, scarichiamo la nostra zampetta. Questa volta però non la scarichiamo in PDF, la scarichiamo in PNG. Ricordati sempre di andare a prendere solo la pagina che ti interessa che è ecco fatto, è stato scaricato. Adesso vado su Editor gli dico apri immagine download ed eccola qua. Apri. L'applicazione ci ha aperto la nostra forma. Noi andiamo su ritaglio, su maschera con bacchetta magica clicchiamo e poi clicchiamo su ogni parte nera perché è la parte che vogliamo togliere. Quindi io clicco qui. Allora, se fai attenzione, io non ho più il colore nero ma ho tanti quadratini neri e grigi che stanno ad indicare che queste aree sono diventate trasparenti. ho finito il mio lavoro salvo. Salvo. PNG va benissimo. Lo chiamerò forma. E il file è stato salvato. Adesso torniamo sul nostro lavoro. Apro una pagina nuova. vado in caricamenti e gli dico carica file. Eccola qua. Orma sta caricando. Clicco. Ecco che cosa è successo. Io ho lasciato lo sfondo giallo dietro proprio perché si vedesse. si è creata una maschera. Quindi io allargando completamente questa immagine ho creato una cornice al contrario. Adesso che cosa posso fare? Io posso dietro questa maschera che è come se fosse un cartoncino all'interno del quale io ho ritagliato delle forme. Io posso andare a prendere qualsiasi cosa. Questa volta possiamo prendere un video. Usiamo questo qui. Gli dico mettiti dietro ovviamente. E l'effetto vedi è come se il gatto cercasse di passare attraverso questi questi buchi per venire verso di noi. In pratica qui ho lasciato uno sfondo e poi ho inserito delle foto ma potevo inserire tranquillamente un video all'interno di queste forme. Qui invece è come se io avessi messo una maschera ritagliata al di sopra del mio video. Ovviamente la scelta della forma dipende tutta dall'utilizzo che tu intendi farne. Spero come al solito di esserti stata utile ti saluto e ti aspetto alla prossima lezione. Buon lavoro! Buon lavoro!